nostri oratori che rifletteranno autorevolmente e in modo molto approfondito su questo tema. Ma tutti ci rendiamo conto che, oltre all'interesse per il libro, questa è un'occasione adatta per manifestare al Cardinale Bertone, da parte di tutti noi qui presenti, ma anche di chi avrebbe voluto e non ha potuto esserci, la nostra stima, la nostra gratitudine per il servizio grandissimo e generoso che ha svolto per la Chiesa in molti modi, ma soprattutto come Segretario di Stato. Il primo a manifestare questa stima è il Papa Francesco stesso, non solo con le parole che gli ha rivolto il 15 ottobre scorso, ma anche con la bellissima prefazione di questo volume, che abbiamo già potuto leggere anticipata nei giorni scorsi sull'Osservatore Romano e che rende omaggio ancora una volta all'opera del Cardinale Bertone. Si tratta di un contributo straordinario, questa prefazione, per la comprensione in profondità del tema fondamentale trattato in questi scritti, in questi discorsi. ma il Papa manifesta anche la sua gratitudine, la sua simpatia per il Cardinale Bertone con alcune parole conclusive che io so bene che lo hanno toccato, in particolare quando dice che ha dimostrato di avere la tempra piemontese del gran lavoratore che non lesina nelle fatiche nel promuovere il bene della Chiesa. Anche il Papa Emerito Benedetto XVI negli anni passati aveva più volte manifestato stima e gratitudine per il suo segretario di Stato e ancora nei giorni scorsi, lo posso dire, lo ha invitato a pranzo con lui e ha sfogliato con lui questo libro complimentandosi per l'opera. Ma veniamo brevemente al nostro libro. Io credo di dover dare alcune informazioni semplicissime per capire di che cosa si tratta per chi non abbia ancora potuto prenderne visione personalmente. Si tratta della raccolta, curata dal Professor Vincenzo Buonomo, di ben 43 interventi del Cardinale Tarcisio Bertone nel corso del suo settennato come segretario di Stato. Attenzione, il Cardinale Bertone come segretario di Stato negli anni scorsi ha fatto centinaia di importanti interventi di varia natura. Ce ne possiamo rendere conto facilmente riprecorrendo la nota biografica che è contenuta nel volume e che ricorda percorre la sua attività e consultando il sito della Santa Sede dove troviamo tutti questi interventi che sono numerosissimi. Ha tenuto innemerevoli omelie e discorsi in viaggi, celebrazioni e in altre circostanze. Ma per questo volume è stata fatta una scelta molto selettiva e precisa che è ben indicata appunto dal titolo del volume stesso. I 43 interventi scelti sono stati organizzati per tematiche in sette sezioni. La Santa Sede nella Comunità delle Nazioni Diplomazia e diplomatici pontifici Costruire condizioni di pace La dignità umana fondamento dei diritti Una garanzia internazionale della libertà religiosa Solidale condivisione per lo sviluppo dei popoli E infine l'Europa in cammino verso l'unità Si aggiungono anche dieci messaggi Inviati dal Cardinale Segretario di Stato a nome del Papa Su temi analoghi E infine anche alcuni scritti del Professor Tarcisio Bertone Che risalgono a prima del suo Ministero Episcopale E sono testimonianza della sua competenza e attenzione Alle materie trattate nel volume Fin dal tempo della sua attività accademica Ne risulta quindi un'opera poderosa e di grande interesse Per molte categorie di lettori Ecclesiastici, diplomatici, politici Studiosi di discipline giuridiche e così via Ma ora io non devo rubare altro tempo Ed entriamo quindi in un discorso più approfondito Dando la parola ai nostri autorevoli oratori E cominciamo con l'intervento di Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Dominic Mamberti Segretario per i rapporti con gli Stati Non ha certo bisogno in questa sede di una mia presentazione Data la sua funzione e la sua autorevolezza Però ci tengo a ricordare in questa occasione Che egli ha iniziato a ricoprire la sua carica di responsabile Della seconda sezione della Segreteria di Stato Esattamente quando il Cardinale Bertone Ha iniziato il suo servizio come segretario di Stato Ed è quindi stato suo fedele collaboratore In questo compito di cruciale importanza Durante l'intero settennato del Cardinale Bertone Ciò lo rende non solo persona di assoluta competenza Per trattare qui il tema del ruolo Della diplomazia della Santa Sede nel mondo globalizzato Ma anche per farlo con la migliore conoscenza possibile Dell'origine e delle motivazioni Sottostanti a tutti i testi raccolti in questo volume Dopo l'autore stesso, il Cardinale Bertone Credo che nessuno, meglio di lui Possa quindi presentarci nello spirito Il significato complessivo e profondo La parola a Sua Eccellenza, grazie Grazie, padre Eminenze reverendissime Eccellenze Distinti membri del corpo diplomatico Distinti relatori Signori e signori Innanzitutto vorrei ringraziare Sua Eminenza il Cardinale Bertone Per l'invito che mi ha rivolto a presentare questo volume Intitolato la diplomazia pontificia in un mondo globalizzato Che contiene molti dei suoi interventi come segretario di Stato Unitamente ad alcuni testi anteriori Che risalgono la sua precedente esperienza di docenza Come ha appena ricordato padre Lombardi Si tratta di una raccolta organica Attentemente curata dal professor Buonomo Che affronta alcuni dei temi fondamentali Dell'azione diplomatica della Santa Sede Ma si sofferma anche sui tratti distintivi Di coloro che sono i protagonisti principali di tale azione Dal Papa ai rappresentanti pontifici Ed è proprio dai protagonisti che vorrei partire Per introdurre alla lettura di questo volume Tratteggiando alcune caratteristiche della diplomazia pontificia Che la rendono così peculiare E il primo protagonista è proprio il romano pontefice Che con il suo magistero Ma anche con la sua sensibilità personale la indirizza Da ciò risulta che accanto ai tratti comuni Che accompagnano tutta quanta l'azione diplomatica Della Santa Sede nel corso dei secoli Vi sono alcuni accenti che acquistano maggiore importanza Anche in funzione del momento storico in cui si situano Come pure della personale formazione e sensibilità del pontefice regnante In tale prospettiva si comprendono bene La specificità e la continuità Che contraddistinguono non solo i diversi pontificati Bensì anche il lavoro dei singoli segretari di Stato Succedetusi nel tempo che sono i principali collaboratori del Papa Desidero perciò porre particolarmente l'attenzione Sui temi che hanno contraddistinto il pontificato di Benedetto XVI Il cui importante magistero ha costituito L'alveo dentro il quale occorre leggere i discorsi del Cardinale Bertone Tuttavia, come dicevo poc'anzi, la specificità dell'insegnamento di un pontefice Non è mai digiunta dalla continuità che accomuna tutti quanti i papi Alcune tematiche costituiscono perciò il fil rouge Il filo conduttore dell'azione diplomatica della Santa Sede Uno di questi fili conduttore è l'edificazione della pace Proprio tale espressione è stata usata dal Santo Padre Francesco Nel suo primo discorso al corpo diplomatico il 22 marzo scorso Infatti, uno degli obiettivi della diplomazia pontificia E' proprio quello di costruire ponti fra tutti gli uomini Così che ognuno possa trovare nell'altro Non un nemico, non un concorrente Ma un fratello da accogliere e da abbracciare Il volume che oggi presentiamo Ripercorre tale opera di edificazione Sia nella parte terza intitolata Costruire condizioni di pace Come pure in un importante contributo dell'allora Don Tarcisio Bertone Al simposio tra le università ecclesiastiche E gli istituti di studi superiori Svoltosi nel dicembre del 1986 In tale scritto, il professor Bertone ricorda Il magistero dei pontifici a partire da Pio XII Evidenziando come l'insegnamento dei papi dopo il 1945 Soprattutto nel riferimento indeclinabile al Vangelo della pace E a una metafisica della pace Costruita sui principi dell'ordine morale Sia la luce che ha guidato l'azione E gli interventi delle comunità ecclesiali Per far sì che il binomio uomo-pace Diventasse un autentico dinamismo Unitivo e solidaristico Per una vasta educazione alla pace In vero, tale azione in favore della pace Che contraddistingue in modo precipuo il magistero più recente A radici ben più antiche Infatti, nel condurre avanti la prassi di pace Evoca ancora il menzionato contributo La sede apostolica ha compiuto numerosi interventi di arbitrato A partire dalle mediazioni medievali Propace Reformanda Intergentes Passando all'azione di pacificazione Svolta dal beato Pio IX Nel conflitto franco-prussiano del 1870 O all'arbitrato di Leone XIII Nella disputa tra Germania e Spagna Sul possesso delle isole Caroline nel 1885 Per giungere alla cosiddetta mediazione del canal di Bigel Del beato Giovanni Paolo II Tra Argentina e Cile nel 1978 E proprio al trentennale di tale evento È dedicato un messaggio del cardinale Bertone Diretto a nome di Papa Benedetto All'allore cardinale Roche Mario Bergoglio Nel quale si ricorda Che la mediazione del canal di Bigel Continua ad essere un paradigma Da proporre all'attenzione della comunità internazionale Essa ha dimostrato Come in ogni controversia Il dialogo non pregiudica i diritti Ed amplia invece il campo delle possibilità ragionevoli Di composizione delle divergenze La promozione della cosiddetta Cultura del dialogo e dell'incontro Come ama definirla Papa Francesco Risulta così uno dei capisaldi Della diplomazia pontificia Lungo tutta la storia recente D'altra parte La promozione della pace Deve costituire il cuore Di ogni autentica azione diplomatica Lo ricordava proprio il cardinale Bertone Nel suo primo discorso al corpo diplomatico Poco dopo aver assunto l'incarico di segretario di Stato Allorché affermava che i diplomatici Devono essere operai di pace Servitori degli interessi dei popoli Perciò uomini di diritto Della ragione Del dialogo sincero Che si impegnano a favore Di un sussulto rinnovato Di solidarietà tra i popoli Nel suo messaggio Per la giornata mondiale della pace Del 2009 Papa Benedetto Ha ricordato Che la costruzione della pace Non può essere in alcun modo Digiunta dalla lotta alla povertà Tale nesso Sradicamente della povertà Edificazione della pace Costituisce indubbiamente Un proprio della diplomazia pontificia Sono come i punti di riferimento Di un cammino Al quale la Santa Sede Invita tutti i popoli A prendere parte Come ha evocato lo stesso Santo Padre Francesco Si tratta di un movimento Bionivoco Da un lato Per costruire la pace Occorre ridare speranza ai poveri Dall'altro Tale speranza Non si può dare Laddove non cessa il fragore Degli armi La lotta alla povertà Costituisce dunque Il secondo fil rouge Della diplomazia Della Santa Sede Poiché costituisce Di per sé Uno dei pilastri Dell'azione stessa Della Chiesa Che con le sue Molteplici opere Caritative Ha contribuito Lungo i secoli E contribuisce Tuttora All'edificazione Della pace Principalmente Attraverso La longianime carità Di numerosi Santi E degli istituti Religiosi Da esse fondati Il Santo Padre Ha tuttavia Ricordato Che la povertà Ha una duplice Conotazione Anzitutto Vi è quella Più evidente Che nasce Dall'indicezza Materiale Accanto ad essa C'è anche Un'altra povertà E la povertà Spirituale Dei nostri giorni Che riguarda Gravemente Anche i paesi Considerati Più ricchi Senza Trascurare la prima Il Magistero Di Benedetto De Cimo Sesto Si è particolarmente Concentrato Sulla seconda Ricordando Alle coscienze I pericoli Insidiosi Della povertà Spirituale Sradicare Tale genere Di povertà Implica Anzitutto Riproporre La centralità Della persona Si tratta Di un tema Che appare Esplicitamente O implicitamente In quasi Tutti i discorsi Del segretario Di Stato Parlare Della centralità Dell'uomo Comporta Anzitutto Una riproposizione Chiara E sistematica Della sua dignità E perciò Dell'importanza Della tutela Dei diritti Umani Tra cui Il diritto Alla libertà Religiosa Che Benedetto De Cimo Sesto Definisce Il primo Dei diritti Umani E conciò Del rapporto Tra la Chiesa E l'autorità Civile Ciò implica Anche Una riproposizione Del respiro Etico Dell'azione Umana Che è uno Dei temi Cardine Della Caritas Inveritate Ciò significa Infine Come spiega Il Cardinale Bertone Riscoprire Anzitutto I legami Che costituiscono L'uomo E che permettono La sua crescita Umana Integrale Ovvero Valorizzare E favorire La sua dimensione Trascendente Sono questi I grandi temi Intorno ai quali Si raccolgono Le diverse parti Del volume Che presentiamo Questa sera Essi Costituiscono Come gli accenti Specifici Della Dimplomazia Pontificia Negli anni Del pontificato Di Benedetto XVI E' facile Comprendere Come essi Si situino In quell'alveo Che opera Pocansi Delineato Compreso Tra la dedificazione Della pace E la lotta La povertà Materiale E spirituale Intrecciandosi Con quelle Che sono Le due Preoccupazioni Cardine D'azione Iblomatica Di tutti I pontefici Nella storia La Salus Animarum Bene Supremo Che la Chiesa Persegue E la Libertas Ecclesi E condizione Storicamente Necessaria Per conseguire La salvezza Delle anime In tale Prospettiva Rileva Il cardinale Bertone La sede apostolica Nel suo agire Nella comunità Dei popoli E impegnata In un discernamento Attento A cui si affianca Un apporto Conseguente Che non è Di natura politica Ma è finalizzato Ad orientare Mediante Richiami Etici E principi Di giustizia E di solidarietà Anche le scelte Con spiccato Contenuto Tecnico O specializzato Per svolgere Tale fondamentale Ruolo È necessario Che sia pienamente Tutelato Il diritto Della Chiesa A predicare La fede E insegnare La propria Dottrina sociale Esercitare Senza ostacoli La propria Missione Tra gli uomini E dare Il proprio Giudizio morale Anche su cose Che riguardano L'ordine politico Quando ciò Sia richiesto Dai diritti Fondamentali Della persona E dalla salvezza Delle anime Dice il concilio Vaticano II Nella costituzione Gaudium et spes Ciò è strettamente Connesso Con l'esercizio Della libertà Religiosa Che deve essere Riconosciuta Come un diritto A tutti gli esseri Umani E a tutte le comunità E che deve essere Sancita Nell'ordinamento Giuridico Delle società Civili Il cardinale Bertone Benevoca Come non vi sia Contradizione Tra la libertà Seclesi E la libertà Religiosa Poiché Quando si parla Di libertà Seclesi Si fa riferimento Ad una realtà La Chiesa Che è di ordine Sopranaturale E quindi Conoscibile A partire Dalla rivelazione E dalla fede Mentre Quando si parla Di libertà Religiosa Ci si riferisce Ad una realtà Che è propria Dell'ordine naturale Conoscibile Cioè Attraverso La ragione Umana Per questo Per questo Di libertà Religiosa Si può parlare Discutere E convenire Con tutti gli uomini Indipendentemente Dal loro credo Religioso Purché Seguano I dettami Della retta Ragione E proprio L'uso Retto Della ragione Costituisce Uno dei richiami Più significativi Di Papa Benedetto Decimo Sesto Soprattutto Nei suoi incontri Con le alte Autorità Politiche Specialmente Nei due Indimenticabili Discorsi A Westminster Hall E al Bundestag Il corretto Esercizio Della libertà Religiosa Non può Prescindere Della mutua Interazione Di fede E ragione Che fa Sì Che al ruolo Correttivo Della religione E nei confronti Della ragione Corrisponda Il ruolo Purificatore E strutturante Strutturante Della ragione All'interno Della religione Al fine Di evitare Da un lato Un asacerbato Razionalismo Laicista Che guarda Con sospetto Ad ogni possibile Trascendenza Dell'uomo E dall'altro A quelle forme Distorte Di religione Come il settarismo O il fondamentalismo Che sono altrettante Lesive Della libertà Religiosa Nella continua Ricerca Di una corretta Comprensione Del rapporto Tra fede E ragione Tra desideri Trascendenti Dell'uomo E soddisfazione Dei suoi bisogni Imanenti Troviamo L'asse portante Quasi la chiave Di volta Di tutta L'azione diplomatica Del pontificato Di Papa Benedetto Tale preoccupazione Emersa Con lucida Chiarezza Nel suo ultimo Discorso Al corpo Diplomatico Nel gennaio Scorso Allorché Ramentava Che Conoscere La verità Sembra impossibile E gli sforzi Per affermarla Appaiono Sfocciare Spesso Nella violenza D'altra parte Continuava Secondo una concezione Ormai diffusa L'impegno Per la pace Si riduce A un esercizio Meramente umano Di ricerca Di un compromesso Che garantisca La convivenza Fra i popoli O fra i cittadini All'interno Dello Stato Al contrario Nell'ottica Cristiana Esiste Un'intima Connessione Tra la glorificazione Di Dio E la pace Degli uomini Sulla terra Così che la pace Non sorge Da un mero Sforzo Bensì Partecipa Dell'amore Stesso Di Dio Ed è proprio L'obbligo Di Dio E non la sua Glorificazione A generare La violenza A partire Da questo Nesso Si comprendono I numeri I numerosi Richiami Al valore Della religione Nella società Civile All'importanza Di una Laicità Positiva Ma anche Una certa Insistenza Sui cosiddetti Valori Non negoziabili Ovvero La tutela Della vita In tutte le sue Fasi Dal concepimento Fino alla morte Naturale Il riconoscimento E la promozione Della struttura Naturale Della famiglia Quali unione Fra un uomo E una donna Basata sul matrimonio E la tutela Del diritto Dei genitori Di educare I propri figli Non si può tacere Che non dirato E si è guardato Con sospetto A tali richiami Tuttavia L'intento Della Santa Sede È sempre propositivo La peculiarità Della diplomazia Della Santa Sede È quella Di essere Un servizio Della coscienza Come Per riprendere Una espressione Del cardinale Toron Essa perciò Nell'ambito Di una giusta Autonomia Tra l'ordine Temporale E quello Spirituale Favorisce Una sana Collaborazione E un senso Di responsabilità Condivisa Tra la Chiesa E le autorità Civile In tale senso Essa vuole instaurare Un dialogo Che ha a cuore Il bene integrale Spirituale E materiale Di ogni uomo E mira a promuoverne Ovunque La trascendente Dignità Tuttavia Notava ancora Benedetto XVI Come è possibile Instaurare Un dialogo Quando si cessa Di riferirsi A una verità Oggettiva Infatti Senza un'apertura Trascendente L'uomo E facile preda Del relativismo E gli riesce Poi difficile Agire Secondo giustizia Ed impegnarsi Per la pace Nella sua azione Diplomatica La Santa Sede Non può dunque Prescindere Da quello Che è il patrimonio Genetico Della Chiesa Ovvero L'annuncio Del Vangelo Fino ai confini Della Terra Ciò però Non significa Che la sua Azione È improntata Ad un cieco Fideismo Al contrario Essa vuole Instaurare Un dialogo Con le istanze Politiche E sociali Che argomenti A partire Dalla ragione E dal diritto Naturale Cioè a partire Da ciò Che è conforme Alla natura Di ogni essere Umano In tale ottica Si colloca Particolarmente La Caritas In Veritate Enciclica Sociale Di Papa Benedetto Punto di riferimento Fondamentale Per molti Dei discorsi Del Segretario Di Stato E conseguentemente Dell'azione Diplomatica Pontificia Al riguardo Il Cardinale Bertone Osservava Sono proprio La Veritas E la Caritas Che indicano Le esigenze Della legge Naturale Che Benedetto XVI Pone come Criterio Fondamentale Della riflessione Di ordine morale Sull'attuale Realtà Socio-economica Caritas In Veritate E principio Intorno a cui Ruota La dottrina Sociale Della Chiesa Un principio Che prende Forma Operativa In criteri Orientativi Dell'azione Morale Attraverso Un'attenta Lettura Di questo Documento Si giunge A comprendere Come un testo Di indole Pastorale Quale Una enciclica Abbia poi Una risonanza A livello Politico E diplomatico La Caritas In Veritate Anche per il particolare Momento storico In cui è stata pubblicata Ma soprattutto Per la chiarezza Dei contenuti In essa esposti È stata Ed è Tuttora Una preziosa Bussola Per orientare I governanti E uomini Di buona volontà In un momento Travagliato E complicato Della storia Soprattutto Benedetto XVI È entrato Nel merito Di questioni Assai concrete Senza tuttavia Perdere di vista Il chiaro Orizzonte Ideale Che deve Caratterizzare La seria Riflessione Non solo Delle autorità Religiose Ma anche Di coloro Che hanno La responsabilità Degli stati Come pure Dei membri Della società Civile Di cui fanno parte Pure gli operatori Economici E finanziari Dinanzi a un mondo Smarrito Il Papa Ricordava Che la crisi Ci obbliga A riprogettare Il nostro cammino A darci nuove regole E a trovare Nuove forme Di impegno A puntare Sulle esperienze Positive E a rigettare Quelle negative La crisi Diventa così Occasione Di discernimento E di nuova Progettualità In questa chiave Fidociosa Piuttosto che Rassegnata Conviene affrontare Le difficoltà Del momento Presente Attraverso Questa lettura Del Magistero Si comprende Ancora una volta Che l'azione Diplomatica Della Santa Sede È sempre orientata Verso un bene Positivo Essa non è Uno sguardo Negativo Sull'uomo E sulla realtà Anche quando Richiama Determinati valori Non è Precettivamente Negativa Al contrario Si adopera Per indoffondere Fiducia E animata Dalla speranza Cristiana Che come ci ricorda Il Santo Padre Francesco Non è Non è semplicemente Ottimismo E con quello Dell'inclusione La pace E promuovere E soprattutto E soprattutto Nel suo discorso Il patrimonio Ero culturale Sorto Unitario Sì Il patrimonio Dall'incontro Tra A fede In Dio Di Israele La ragione Filosofica Dei greci e il pensiero giuridico di Roma. All'interno dei grandi temi che costituiscono l'orizzonte della riflessione e dell'azione diplomatica della sede apostolica, parlare di Europa può sembrare come il posare lo sguardo sul particolare di un quadro perdendone la visione d'insieme. Al contrario, per Benedetto XVI, parlare di Europa è esattamente affrontare il nocciolo della questione, poiché proprio il patrimonio sculturale europeo ci aiuta a comprendere che sulla base della convinzione circa l'esistenza di un Dio creatore sono state sviluppate l'idea dei diritti umani, l'idea di ugualianza di tutti gli uomini davanti alla legge, la conoscenza dell'inviolabilità della dignità umana in ogni singola persona e la consapevolezza della responsabilità degli uomini per il loro agire. Ecco allora che comprendiamo che l'azione diplomatica, anche nel mondo globalizzato, non è mai impersonale e avulsa da un contesto specifico. Anzi, una delle capacità dell'azione diplomatica della Santa Sede è proprio di avere quello sguardo cattolico, ossia universale, proprio della Chiesa, per cui il patrimonio di ogni singolo popolo costituisce una ricchezza per tutta quanta l'umanità. Eminenze, eccellenze, signori e signori, questo volume ci accompagna dentro le pieghe del fecondo magistero di Papa Benedetto e seppure più tangenzialmente per ovvi motivi temporali in quello del Santo Padre Francesco. Infatti, come accennavo poc'anzi, la specificità degli interventi del Segretario di Stato è quella di essere la voce di fronte ai governi e alle autorità pubbliche dell'insegnamento dei pontefici. Ciò mi consente di soffermarmi sull'ultima caratteristica della diplomazia pontificia, che è quanto mai importante soprattutto nel mondo globalizzato. La diplomazia è fatta dei volti e dei nomi che la incarnano sul campo. È significativo che un'ampia parte, la seconda, di questo volume sia dedicata proprio ai diplomatici, sia a quelli che ci hanno preceduto, come pure a coloro che si stanno formando presso la Pontificia Accademia Ecclesiastica, qui presente questa sera. I rappresentanti del Papa non sono solo ambasciatori come gli altri, ricorda il Cardinale Bertone, perché non solo degli estranei laddove operano, essi partecipano in qualche modo della missione stessa del Papa di confermare i fratelli, rendendo sempre più saldi ed efficaci i vincoli di unità che intercorrono tra la sede apostolica e le chiese particolari. In tale senso, non bisogna mai dimenticare che la diplomazia pontificia, prima ancora di essere veicolo di dialogo tra la comunità civile e quella ecclesiale, è anzitutto uno strumento di coesione intra-ecclesiale, segno di quella sollecitudine per tutte le chiese che da sempre anima il Vescovo di Roma, così che il metro della vita dei servitori della Chiesa è intessuto pur nei limiti inderenti alla condizione e possibilità di ciascuno, nella silenziosa e generosa dedizione al corpo di Cristo e al servizio duraturo della causa dell'uomo. Tale dedizione eminenza ha certamente contraddistinto il suo settenato come segretario di Stato al servizio di due pontifici. La ringraziamo perciò di questa testimonianza di servizio generoso e disinteressato di cui queste pagine sono sicuramente una preziosa documentazione. Grazie. Grazie mille eccellenza per questa sintesi così ampia e così forte, densa, sui principi, le finalità, le linee dell'attività diplomatica della Santa Sede, dell'impegno della Chiesa nel quadro della comunità dei popoli. Ci aiutano certamente ad avere una visione unitaria e profonda dei diversi contributi che questo volume ci offre. E ora passiamo al nostro secondo principale oratore, il professor Hans-Gerd Pöttering. È largamente noto per essere stato Presidente del Parlamento europeo ed essere ora Presidente della Fondazione Konrad Adenauer. E' stato formato in studi profondi di diritto, di scienze politiche, di storia, a Bonn, a Ginevra, negli Stati Uniti. Ha insegnato nell'Università di Osnabrück, è professore onorario, ha ricevuto numerosissimi riconoscimenti in molti paesi, soprattutto europei. Ma l'aspetto più caratteristico della sua attività è quello politico, non solo nella Sede U in Germania, ma soprattutto in ambito europeo. Se sono ben informato, e l'ho verificato prima della conferenza, quindi è giusto, è l'unico membro del Parlamento europeo ad averne fatto parte del Parlamento, con continuità, fin dalla prima elezione diretta nel 1979 fino ad oggi. E' stato Vice Presidente e Presidente del gruppo del Partito Popolare europeo nel Parlamento per molti anni. Mi diceva che era la sua esperienza principale di presenza e di lavoro nel Parlamento, prima di essere eletto Presidente del Parlamento stesso dal 2007 al 2009. Alla luce di questa vastissima esperienza di politico e di cristiano impegnato nella politica, nella politica europea in particolare, ora il Professor Pettering è la persona più indicata per parlarci della diplomazia della Santa Sede e del suo ruolo, soprattutto in rapporto alla costruzione europea e ai problemi dell'Europa nell'attuale situazione non solo politica, ma anche culturale e spirituale. Grazie, Professore. Grazie molto, Sua Eminenza, Cardinale Bertone, Sua Eccellenza, Monsignor Manberti, Egregio Padre Lombardi, Egregio Professore Buonommo, Eminenza, Eccellenza, Illustri, Ospiti. Innanzitutto vorrei pregarvi di scusare il mio italiano non perfetto. Non l'ho mai imparato in modo sistematico, per cui scusatemi se purtroppo sarò impreciso in questa bellissima lingua. Essere oggi qui, davanti ad un pubblico così importante, per onorare il libro di uno dei grandi cardinali del nostro tempo, significa anche sfruttare la possibilità che ci unisce in questo momento stando insieme. E' un avvenimento importante, se il Cardinale Secretario di Stato, che fino a pochi giorni fa era ancora in carica, presenta un suo libro, con aiuto, con il Signor Buonommo. Il Cardinale Taciso Bertone, che è stimato da tutti noi, ci propone quasi un bilancio della propria vita, una vita ricca e piena al servizio della Chiesa Cattolica, che è la sua, ma anche la mia, casa. Il Cardinale Taciso Bertone ci dà degli spunti per approfondire i nostri pensieri e le nostre idee perché riesce a raccogliere gli avvenimenti e le cose che ci stanno intorno, che nel rumore della vita quotidiana non vengono considerati abbastanza. Lui riesce a collocare la vita religiosa da cui proveniamo in una vita del mondo di cui facciamo parte. Lui ci rionisce oggi qui nel Vaticano e con il suo libro riesce a coniugare due concetti che insieme hanno un grande significato, il servizio nella Chiesa, il servizio per il mondo. Le due cose erano, sono e rimangono per la loro natura nel principio universale. Il messaggio della salvezza è un messaggio per l'umanità intera. Il compito di vivere secondo i valori della nostra fede è un'missione che riguarda tutti coloro che appartengono alla Chiesa. La Chiesa Cattolica ha la fede che ci sostiene, i valori cristiani e la missione che ci guida sono coniugati tra loro. Sappiamo che i valori che scaturiscono dalla fede o il processo di collegare tali valori alla fede che non appesantisce ma libera, tante volte hanno vissuto momenti difficili. Anche oggi parliamo tanto riguardo alla crisi dei valori come ha fatto anche il Santo Padre nella sua prefazione al libro del Cardinale Taciso Bertone. Papa Francesco però ci ricorda che la crisi dei valori è anche una grande opportunità. ci offre la possibilità di concentrarsi in un altro modo di riflettere e di ritrovarci nuovamente. Questo libro ci aiuta. Il Cardinale Bertone si è preoccupato più di altri nella curia dell'integrazione europea. Il frutto del suo pensiero, le sue esperienze e i suoi incontri hanno arricchito una serie di capitoli di questo libro. I testi sono ispirati da simpatia e allo stesso tempo contengono una critica seria ma costruttiva per quanto riguarda le circostanze in cui si rappresenta l'Unione Europea oggi. Talvolta l'Europa, questo continente che per primo è diventato un continente cristiano ha trovato difficoltà ad affermare i valori che sono le sue radici. E l'Europa ha dovuto sentire la sofferenza sperimentando cosa succede quando le radici che sono il suo fondamento vengono tradite. Due sistemi totalitari e due guerre mondiali ne sono le stesse monzianze del ventesimo secolo. Fra poco, sono esattamente cent'anni che l'Europa, per la tracotanza e il fallimento di chi era alla guida dei paesi ha gettato se stessa e tutto il mondo in un abisso di terribile guerre. Per le conseguenze di queste due guerre ci sono ancora oggi persone che soffrono. In tanti non hanno dimenticato. Oggi possiamo essere grati di vivere nel periodo di pace più lungo che l'Europa abbia mai conosciuto. L'Unione Europea è il frutto di questa pace in Europa. Dopo le grandi scosse, un nuovo inizio serio ha stato possibile. Mai nell'epoca della democrazia moderna così tante persone stimolate dalla responsabilità cristiana hanno partecipato alla ricostruzione dell'Europa. Erano cristiani, cattolici, chi hanno cominciato con l'unificazione europea. Alcide de Gasperi, Robert Schumann e Conrad Adnau. Anche persone come impronte diverse, per motivi umanisti, liberali o socialisti, tutti erano d'accordo sul fatto che mai più la violenza debba giudicare chi ha ragione e chi ha torto. In sostanza, proprio per questo, l'Unione Europea è una comunità di valori, perché mette il diritto a disposizione della persona singola e a tutela della dignità dell'uomo e della vita in pace. Dove il pluralismo delle opinioni e il modo di guardare il mondo diventa un metodo per collaborare, la controversia fa parte del gioco. Sarà sempre così in un'Europa democratica. Lo abbiamo visto nella discussione per una Costituzione europea un decennio fa. Ero Presidente del nostro gruppo a questo tempo. È molto difficile questa cosa. La mia fazione, il Partito Popolare Europeo, della quale sono stato Presidente, si è impegnata con decisione per l'invocazione di Dio nel preambolo della Costituzione. La maggioranza in quell'epoca non ha voluto un riferimento a Dio, ma siamo riusciti insieme a assicurare che il ruolo della Chiesa e di tutte le comunità religiosi nell'Unione Europea sia ancora più forte che mai. Il 30 novembre 2004 Papa Giovanni Paolo II ha ringraziato a mio gruppo e a me nostro impegno nell'ambito del Partito Popolare Europeo nel Parlamento Europeo con una lettera che per me è il documento più precisioso della mia carriera politica. Le parole del Santo Padre non erano solo un incoraggiamento personale, ma un'espressione di riconoscimento della tante persone che oggi in Europa lavorano come noi per i valori cristiani come radice del nostro impegno. E la parola di Giovanni Paolo II fonda la nostra missione per il tempo che ci troviamo davanti. per cui vorrei citare alcune frasi dalla lettera del Santo Padre. La mancanza di un'etica forte e condivisa è sempre stata la premessa di una debole democrazia. Se l'Europa vuole essere autenticamente democratica dovrà dunque integrarsi con questa Convenzione e di conseguenza riconoscere alla religione e pertanto alla Chiesa il ruolo pubblico che ciò comporta e che ad essa compite. Soltanto un'Europa con una forte identità religiosa, morale e culturale può aprirsi agli altri in modo costruttivo e pacifico. Novi anni dopo queste parole di Papa Giovanni Paolo II non hanno perso il loro significato. Come Presidente del Parlamento Europeo nel 2007 ho sottoscritto la Carta dei diritti fondamentali. Questo documento lega tutti gli organi e le istituzioni dell'Unione Europea ai diritti umani che sono cresciuti nella storia dal desiderio della libertà in Europa. In primo luogo la libertà religiosa fa parte di questa Carta come tutti i diritti fondamentali dell'integrità fisica e psichica della libertà di opinione e di riunione ma anche dei diritti sociali e culturali. La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea con il Trattato di Lesbona nel 2009 è diventato diritto europeo giuridicamente vincolante. Questa Carta è il fondamento legale dei valori europei. Essa realizza le aspettative di Papa Giovanni Paolo II nei confronti dell'Europa politica. La Carta dei diritti fondamentali può essere letta come espressione della Convenzione cristiana. Vedo in essa un'affinità con le considerazioni espresse dell'intervento del Cardinale Bertone il 15 giugno 2007 a Gnerschno, Polonia che è stato pubblicato nel libro. Cito il Cardinale Bertone. Nel suo viaggio apostolico in Polonia del 1997 il grande Papa figlio della vostra terra Giovanni Paolo II ebbe a dire che non ci sarà l'unità dell'Europa fino a quando essa non si fonderà nell'unione dello spirito. e poi segue il Cardinale Bertone voleva così sottolineare che sarebbe riduttivo pensare ad un'Europa politicamente unita solo per interessi economici di mercato. Sarebbe un grave errore ipotizzare di poterne costruire il futuro senza tener conto del suo passato senza rifarsi alla sua ricca tradizione umanistica e a cristiana. Sarebbe veramente una perdita non continuare ad avvalersi del contributo che la Chiesa ha dato ed è disposta a dare alla sua Costituzione ed uno dei apporti più significativi del cristianesmo al processo costitutivo dell'Europa è stato sino ad oggi proprio l'impegno strenuo nel difendere e nel promuovere la dignità della persona umana ed i suoi inalienabili diretti così il Cardinale Bertone anche quando norme cristiane non vengono esplicitamente espresse molte volte nell'Europa contemporanea sono presenti la rete della cura degli ammalati le scuole i centri educativi le strutture dello Stato sociale tutte queste cose appartengono a tutti gli europei però si fondano sull'immagine cristiana dell'uomo questo dovremo tenere in considerazione anche se non siamo d'accordo con tutti gli aspetti della politica e della società europea la politica è sempre collegata con la sfera del compromesso la politica non presenta le ultime verità assolute ma deve rendere possibile la ricerca della verità questo garantisce l'unione europea come la conosciamo oggi mi farebbe piacere se nella mia chiesa si parlasse dell'unione europea sempre in maniera corretta così com'è e non distorta dalla polemica che accompagna il lavoro faticoso del compromesso nella costruzione di un Europa stabile l'unificazione europea significa soprattutto conciliazione accordo rispetto reciproco e cosa più importante pace nella libertà l'unione europea come tutte le azioni dell'uomo non è perfetta anche la nostra chiesa non è perfetta vorrei che la chiesa cattolica che è anche la mia chiesa con decisione sostenga l'unità dell'Europa questo mi aspetto da lei la dignità dell'uomo fa parte dei valori più alti della chiesa cattolica dove in tutto il mondo si rispetta la dignità dell'uomo più che nell'unione europea l'opera della pace viene sempre sfidata dalla deformazione populista proprio nei tempi di insicurezza per quanto riguarda il processo della riforma economica questo pericolo è latente possiamo solo rispondere con oggettività e misura anche la chiesa può dare un contributo importante se parliamo di una comunità di valori in Europa e sono questi i valori che formano la base per la nostra unione nell'Europa contemporanea dobbiamo allo stesso tempo pensare alla missione che i valori dell'Europa ci chiedono la comprensione per i nostri valori in Europa non può essere integrale senza che noi ci impegniamo anche in tutto il mondo per promuovere quei valori che vogliamo vivere in Europa in tutto il mondo c'è un punto di riferimento la dignità della singola persona per cui ci angoscia il destino dei rifugiati che annegano davanti alle nostre coste in modo crudele per cui il conflitto in Siria ci tocca perché i bambini che muoviono lì vogliono ridere giocare e vivere come i nostri figli per cui il bisogno sociale nelle baraccopoli di questo mondo ci riguarda perché viviamo in questo unico mondo globalizzato che è diventato piccolo la dignità dell'uomo e i diritti umani sono il credo di ogni politica che si nutre di una responsabilità cristiana nel segno della globalizzazione per quanto riguarda la presenza globale la Santa Sede sotto tanti aspetti e più avanti rispetto alla comunità europea gli interventi diplomatici della Santa Sede sono al servizio della pace in tutto il mondo si lupo è il nuovo nome della pace questa espressione idimenticabile di Papa Paolo VI sia stabilità a livello mondiale come analisi chiara e ha come compito valido per quanto riguarda l'impegno sociale l'impegno di Papa Giovanni Paolo II per i diritti umani ha tolto la terra sotto i piedi al comunismo Papa Benedetto XVI ha reclamato la libertà religiosa come espressione della vita vera contro ogni forma di relativismo in tutto il mondo Papa Francesco promuove l'etica della solidarietà che dovrebbe guidare il nostro comportamento globale questo è scrive lui nella prefazione al libro del Cardinale Bertone una utopia del bene che stimola noi cristiani nell'ambito della diplomazia mondiale tante volte questo atteggiamento per il mondo è come il fumo negli occhi ma noi come cristiani non dobbiamo arrenderci noi ci facciamo garanti dell'uomo e della sua dignità in tutti i paesi anche in Siria in Bielorussia in Cina in Congo e altri paesi questi sono le direttrici del servizio diplomatico della Santa Sede ad esser la Santa Sede si espira e le mette in pratica in un mondo amirevole da tanto tempo in questo senso la Santa Sede è un partner e un alleato dell'Unione Europea per quanto riguarda la nostra richiesta globale per la pace per la dignità dell'uomo e per la libertà l'Unione Europea cresce passo dopo passo in questi compiti che devono essere affrontati da noi europei nel mondo di oggi tante volte sembra troppo tecnico e non è sempre facile dalla diplomazia pontifica l'Unione Europea può imparare come si può costruire questo concetto che della scienza viene chiamata soft power la forza di convincere tramite un esempio attendibile e la forza mansueta la cultura del nostro atteggiamento lo stilo del nostro contributo per un mondo migliore il respiro lungo che conta sul cambiamento e non su una variazione brusca e radicale il libro del Cardinale Bertone ci fa vedere in modo chiaro come la Chiesa Cattolica pratica la sua capacità di guida tramite l'esempio e la fermezza con Papa Francesco l'autenticità di questa diplomazia di fraternità è diventata un marchio globale della nostra Chiesa possiamo essere orgoglioso di questo ma dobbiamo dare sempre un riscontro positivo alle aspettative che immergono dal di fuori per la Chiesa e per la politica la vita del Cardinale Taciso Bertone testimonia questo intendimento nell'ambito scientifico lui ha iniziato con una licenza sulla tolleranza e la libertà libertà religiosa e un dottorato in diritto canonico sul governo nella Chiesa cattolica nel pensiero di Benedetto XIV Prospero Lambertini nel 700 Benedetto XIV ha stipulato alcuni concordati con degli stati europei ha introdotto l'uso dell'Enziclica come lettera circolare istruttiva ai Vescovi e ha tolto dall'indice dei libri proibiti gli iscritti in difesa del sistema copernicano riscattando dall'esilio Nicolai Copernicus un uomo davvero da studiare la stessa cosa bisogna dire sul Cardinale che incontriami oggi come autore Taciso Bertone nella sua funzione di segretario di Stato ha scritto un pezzo importante della storia ecclesiastica ora ci regala un libro pieno della sua esperienza di vita della sua saggezza e della sua lungimiranza questo libro si fonda sol intendimento che anche in futuro solo autenticità nell'intervento diplomatico nello spirito della pace porterà frutti pieni di successo la Chiesa e il mondo possono imparare tanto da questo libro leggerlo porta un beneficio intellettuale e un impulso morale mi auguro che il pensiero rispetto alla pace e alla diplomazia espresso dal Cardinale Bertone nell'ottica del suo pensiero e del suo operato siano un folgito esempio e una guida per tutti noi la ringrazio grazie infinite dottor Pettering di questo intervento così forte e così convinto è stato veramente una testimonianza personale ci rendiamo conto che per far passare nella vita nella realtà concreta i principi anche che vengono enunciati dalla diplomazia pontificia ci vuole poi l'impegno dei politici cristiani dei politici di buona volontà che traducono effettivamente in leggi in misure in vita concreta i principi che noi alimentiamo e annunciamo e il modo in cui lei lo ha testimoniato mi sembra estremamente convincente e anche incoraggiante e tra l'altro lei ha anche testimoniato la sua convinzione europeista di impegno il valore dell'impegno per l'Europa e questo incoraggia anche noi a collaborare da un punto di vista della diplomazia della Chiesa per questa costruzione di pace e di dignità della persona che l'Europa vuole essere e deve continuare ad essere e anche grazie poi per avere colto lo spirito con cui adesso anche la Chiesa si muove con il tema dell'utopia del bene della solidarietà e della forza di convincere ecco questa diplomazia della fraternità con cui ci vogliamo muovere in questo mondo sentiamo di avere appunto nei laici cristiani impegnati gli interlocutori essenziali per poter far passare nella realtà tutti questi ideali grazie per davvero della sua testimonianza professore e adesso diamo la parola ancora al curatore del volume il professor Vincenzo Buonomo è professore ordinario di diritto internazionale e organizzazione internazionale nella Pontificia Università Lateranense ed è anche docente di diritto internazionale e diplomatico presso la Pontificia Accademia Ecclesiastica oggi qui così largamente rappresentata è anche membro di numerose delegazioni della Santa Sede in occasione di riunioni delle organizzazioni internazionali Nazioni Unite FAO Consiglio d'Europa OSCE e così via noi gli siamo molto grati per il bel lavoro compiuto con questo volume e ora gli diamo la parola perché dato che è la persona che conosce meglio di tutti il volume stesso dopo naturalmente l'autore può aiutarci a cogliere ancora qualche aspetto dell'opera che sia particolarmente interessante e degno di nota la parola a lei professore grazie grazie padre Lombardi eminenze eccellenze illustri membri del corpo diplomatico cari colleghi cari studenti signore e signore non parlando per ultimo penso che debbo aggiungere ben poco perché tanto è stato detto sul libro e sulla capacità che c'è stata da parte del cardinal Bertone di esprimere alcune linee fondamentali dell'attività diplomatica della Santa Sede non vi nascondo che quando il 5 luglio del 2012 mi arrivò una lettera del cardinal segretario di Stato con cui mi chiedeva di raccogliere i suoi interventi in materia internazionale un attimo ho avuto qualche perplessità ad appunto dire che tipo di lavoro sarà però dopo tanti anni di servizio alla Santa Sede non avendo né voto di obbedienza né promessa di obbedienza ho detto che dovevo obbedire basta e quindi iniziare a mettere insieme questi testi più che altro cercando di dare delle piste di lettura a chi in qualche modo voleva conoscere cosa c'era stato nell'ultimo periodo di interesse per la Santa Sede e di interesse al più alto livello della sua espressione diplomatica una raccolta che quindi non è solo di carattere sistematico ma è anche uno strumento proprio per rilevare qual è stata l'azione qual è l'azione qual è stata l'azione concreta ampia complessa a cui potremmo utilizzare tanti aggettivi per indicare la diplomazia della Santa Sede che segue questo aspetto interessante che si coglie subito segue un po' le direttrici delle relazioni internazionali i grandi obiettivi della diplomazia pontificia coincidono l'abbiamo sentito anche adesso a proposito dell'Unione Europea coincidono con quelle che sono le grandi situazioni in gioco nel dibattito internazionale per il giurista certamente riflettere su questi aspetti diventa ancora più stimolante diventa più stimolante perché di fronte alla diplomazia pontificia c'è un profilo storico che diventa essenziale non solo conoscere ma poter in qualche modo attualizzare nel libro per esempio ci sono due figure di segretari di Stato che vengono delineate il cardinale Ettore Consalvi segretario di Stato di Pio VII e poi il cardinale Agostino Casaroli due momenti storici completamente diversi però pensiamo all'apporto che i due hanno dato a due aspetti importanti per l'attività diplomatica ancora oggi il cardinal Consalvi questo è ancora evidente nel carteggio con il cardinal Pacca presente a Roma durante il congresso di Vienna diede alcune linee fondamentali raccolte in quello che era il regolamento diplomatico del congresso di Vienna che regolò l'attività della diplomazia permanente fino al 1961 quando venne elaborata la convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche il 16 aprile del 61 e in quel contesto la figura di Monsignor Casaroli fu fondamentale proprio dal punto di vista dell'elaborazione di alcuni istituti tipici del dritto diplomatico contemporaneo basta qui ricordare il riferimento alla figura del Nunzio o alla terminologia del Nunzio che diventa parte essenziale di quella convenzione oggi è parte del dritto diplomatico generalmente riconosciuto o ancora il dritto di decananza riconosciuto al rappresentante del Papa proposta fatta allora dalla delegazione della Tunisia durante la conferenza di codificazione del dritto diplomatico nel 61 ecco questo aspetto storico che apparentemente è distante si ritrova nel volume perché ci sono testi che vanno a leggere situazioni o episodi particolari e specifici ancora ricordando la figura del Cardinal Casaroli c'è il riferimento alla grande conquista di civiltà e di libertà che è stata la conferenza di Helsinki con il suo atto finale nel 1975 in quel contesto la delegazione della Santa Sede concorse ad elaborare un istituto che oggi è essenziale per l'attività diplomatica multilaterale il consensus e la Santa Sede spiegò cos'era il consensus e quella spiegazione venne accettata dagli altri paesi partecipanti alla conferenza a distanza di anni siamo nel 1994 al Cairo la Santa Sede interpretò il consensus parlando di consensus parziale sugli atti emanati da conferenza internazionale oggi questo è prassi nel multilaterale quindi un'attività che ripeto fa uso della storia ma fa uso anche di un'esperienza che quotidianamente si confronta con le situazioni avendo ben presente quella distinzione che il volume nei testi del volume è sempre evidente quella funzione ad intra la comunione la collegialità se vogliamo utilizzare anche un termine più ampio che dalla sede di Roma è portata alle chiese particolari e la dimensione ad extra dimensione quindi nei confronti dei rapporti con gli stati e inseriamo anche con le organizzazioni intergovernative canone 362 del codice di diritto canonico resta una sintesi fondamentale sotto questo aspetto dove richiama la funzione del legato pontificio presso i governi subordina questo tipo di attività al rispetto del diritto internazionale diremmo al rispetto del diritto diplomatico in particolare questo aspetto questo concorso della Santa Sede all'elaborazione delle norme internazionali è un motivo sottostante a diversi interventi del Cardinal Bertone che sono riportati nel volume qui potremmo ancora di più allargare ma vorrei adesso entrare su un aspetto fondamentale la questione che riguarda la conclusione degli accordi più volte sono riportati interventi nelle varie parti del volume interventi che riguardano la conclusione di accordi bilaterali della Santa Sede accordi abbiamo sentito da Monsignor Manberti accordi finalizzati a realizzare da un lato la libertas ecclesi e dall'altro a garantire quella che è la salus animarum quindi due pilastri fondamentali per la vita della Chiesa e per l'attività della diplomazia internazionale e sotto questo punto di vista abbiamo una continuità da parte della Santa Sede nel realizzare anche una prassi dal punto di vista della conclusione degli accordi internazionali ci sono alcuni testi che riportano proprio questo profilo la Santa Sede che conclude accordi in quanto Santa Sede in quanto cioè organo di governo della Chiesa cattolica la Santa Sede che conclude accordi in quanto anche a nome e per conto dello Stato della Città del Vaticano la Santa Sede che conclude accordi a nome e per conto dello Stato Città del Vaticano diversità di situazioni che fanno capire come questo soggetto si muove sul piano delle relazioni internazionali abbracciando le diverse situazioni e utilizzando le categorie che sono proprie del dritto internazionale la spinta che oggi abbiamo da parte del Papa Francesco ci porta e la prefazione credo che illustri molto bene questi passaggi ci porta a individuare alcuni obiettivi immediati e anche alcuni sul lungo periodo il tema della lotta alla povertà il tema del costruire la pace e ancora realizzare il dialogo abbiamo sentito anche stasera costruire cioè quell'etica della solidarietà che più volte compare negli interventi che vengono riportati un'etica della solidarietà ci dice Papa Francesco che dovrebbe sostituire il ricorso alla forza e qui c'è un aspetto interessante c'è un intervento fatto dal cardinal segretario di Stato nel corso della conferenza dei vertici dei capi di Stato e di governo dei paesi membri dell'OSCE siamo nel 2010 ad Astana e in quel contesto si fa riferimento alla necessità di un intervento da parte degli Stati di fronte alle situazioni che hanno bisogno di essere aiutate in senso solidale e qui potremmo allargare e riflettere ulteriormente su quali sono le nuove prospettive che la diplomazia della Santa Sede affronta sotto questo punto di vista partirei da un dato come dire il dato più alto cioè il Magistero Pontificio in rapporto proprio al tema dell'umanitario oggi diventato essenziale per i rapporti internazionali Giovanni Paolo II il 5 dicembre del 1992 inaugurando la conferenza internazionale sulla nutrizione parlava di necessità di intervento umanitario anche nella forma di ingerenza un'espressione che fu molto forte eravamo nel contesto della crisi della Somalia nel 1992 della crisi dei Balcani lo disse in modo esplicito e molto forte la sovranità degli stati non poteva in alcun modo limitare i dritti fondamentali dei popoli Benedetto XVI il 18 aprile del 2008 parlando all'Assemblea Generale dell'ONU utilizzava invece introduceva un'altra categoria la responsabilità di proteggere gli stati hanno il dovere e la responsabilità di proteggere quanti sono presenti sul loro territorio indipendentemente dal criterio di cittadinanza o di appartenenza anche lì la Santa Sede dava una lettura e una risposta a situazioni presenti nell'ordine internazionale il 7 settembre di questo anno 2013 Papa Francesco con una lettera indirizzata al presidente in carica del G8 il presidente Putin richiamava l'obbligo di assistenza umanitaria il riferimento era in particolare alla popolazione civile in Siria vittima di un conflitto anche qui un aspetto fondamentale il tema dell'umanitario in cui la diplomazia pontificia concorre sotto la spinta del Magistero ma poi dando declinando nei diversi ambiti quelle che sono poi le situazioni concrete e ancora abbiamo sentito più volte parlare del tema della libertà di religione legandola alla libertà secclesia è una libertà di religione anzitutto proclamata non per i cattolici qui la diplomazia pontificia ha una costante ma per tutti i credenti non soltanto quindi per coloro che sono parte della chiesa e ancora una libertà di religione in grado di parlare alle diverse religioni c'è un episodio 26 luglio del 1993 il comitato delle Nazioni per i dritti umani si era trovato ad interpretare l'articolo 18 del patto internazionale sui dritti civili e politici riguardante la libertà di religione e nell'interpretazione aveva un grande problema quello di definire l'espressione religione venne chiesto alla Santa Sede di fornire alcune indicazioni bene quelle indicazioni sono presenti nel commento nel general comment fatto dal comitato sull'articolo 18 in particolare per quanto riguarda il dritto di cambiare religione che era sfuggito metto tra virgolette al dibattito internazionale e ancora la necessità di un dialogo in materia di libertà di religione e qui l'attività diplomatica si lega ad un'attività più direttamente di ordine religioso penso alla presenza della Santa Sede come osservatore fondatore nel CAICID nel centro internazionale interculturale per il dialogo interculturale interreligioso di Vienna un anno fa 30 di ottobre del 2012 anche lì la diplomazia si coniuga all'elemento più direttamente legato al dialogo interreligioso poi l'altro aspetto ecco c'è tutta una parte del libro che è dedicata al rispetto dei dritti fondamentali e lì ci si accorge che è un settore su cui la Santa Sede ha tanto da dire perché ha tanto da parlare della persona e di tutte le implicazioni che sono parte o effetto della dignità della persona certo stasera sentire il professor Pötting che faceva riferimento alla carta dei dritti dell'Unione Europea forse ultimo traguardo almeno nel continente europeo in tema di dritti fondamentali certo la carta esprime tanto della visione cristiana il giurista chiaramente ha la difficoltà di dover leggere insieme alla carta i criteri di interpretazione che rispondono a criteri diversi o se vogliamo a prospettive diverse sono criteri essenziali per chi vuole interpretare la carta chi conosce il sistema del diritto dell'Unione Europea sa bene come questi ambiti siano tra di loro correlati ed è impossibile scinderli l'interpretazione la formulazione sul tema dei dritti il problema viene fuori già dagli scritti dagli interventi del Cardinal Bertone ma ancora di più dagli interventi fatti dalla Santa Sede in varie occasioni il problema dei dritti non è la questione dei nuovi dritti ma la questione del fondamento dei dritti cioè di fronte alla frammentazione del soggetto di dritti noi possiamo inserire qualunque tipo di interesse e qualunque tipo di circostanza e proclamarlo come dritto questo nella dinamica dei rapporti internazionali è un elemento essenziale ed è un elemento su cui la Santa Sede continua a riflettere non per arginare o per contrapporsi ma per voler contribuire a costruire dritti che siano rispondenti ad esigenze reali tema dello sviluppo c'è tutta una parte riguardante il tema dello sviluppo e della cooperazione internazionale come condizione necessaria alla pace come condizione di prevenzione per esempio al terrorismo è inutile combatterlo se non vengono eliminati quelli che sono le situazioni che permettono o che consentono o che spingono l'attività terroristica sul tema della cooperazione della cooperazione in materia di sviluppo l'attività della Santa Sede è continuamente in evoluzione cercando un giusto equilibrio tra la compensazione di alcuni dritti e dall'altro il servizio al bene comune nel giugno scorso a conclusione di un lungo iter negoziale all'interno dell'organizzazione internazionale per la proprietà intellettuale quando si concludeva il Marrakesh si concludeva la convenzione riguardante la proprietà intellettuale si faceva un esplicito riferimento o un eccezio per la condizione degli ipovedenti che dovrebbero usufruire delle risultanti tecniche in materia di comunicazione proprio per la loro condizione lì la Santa Sede interveniva con una eccezione che confermava l'interesse per un aspetto fondamentale riguardante la persona e ancora il tema del commercio per molti a volte capita in contesti anche qualificati di sentire ma perché la Santa Sede partecipa all'attività dell'organizzazione mondiale del commercio in realtà la partecipazione che inizia nel 1996 all'attività di questa organizzazione non è portatrice di interessi dello Stato cittare vaticano ma di quella che è l'attenzione della Chiesa abbiamo sentito qui ricordare più volte la carità assimeritate l'attenzione della Chiesa come ultimo esempio l'attenzione della Chiesa ai temi del commercio legati allo sviluppo ecco la partecipazione per la costruzione dell'agenda di Doha che è obiettivo oggi dell'organizzazione mondiale del commercio e della sua attuazione vede la Santa Sede direttamente impegnata un ultimo aspetto nel testo continuamente ci sono riferimenti ad un'attività che tende alla maturazione di una coscienza comune la coscienza comune che è legata alla libertà dei membri della comunità internazionale ma che poi deve essere capace di commergere intorno ad alcuni obiettivi comuni questo un po' un leitmotiv degli interventi che sono stati inseriti nel volume e allo stesso tempo qualcosa che rispecchia direttamente l'attività diplomatica della Santa Sede questo perché c'è un bisogno di costruzione continua continuativa credo che la diplomazia della Santa Sede conosca bene il fatto che gli obiettivi di giustizia non hanno mai definitive ma quotidianamente c'è bisogno di costruire l'attività diplomatica a questo tipo di finalità non in una forma potremmo dire di compromesso a ribasso ma piuttosto in una forma di costruzione di una attività che sia a servizio della persona un ringraziamento un ringraziamento al Cardinal Bertone per avermi dato questa possibilità di rileggere attraverso i suoi scritti attraverso i suoi interventi delle pagine dell'attività della Santa Sede o di trovare tanti spunti per poter pensare anche ad un futuro dell'attività diplomatica della Santa Sede non ultimo anche un ritornare nelle aule dell'Università Lateranense quando leggevamo quelli che sono poi gli scritti alcuni degli scritti riportati nella seconda appendice e cioè scritti del Professor Bertone riguardanti i temi della libertà religiosa o i temi dell'attività diplomatica della Santa Sede a servizio della pace ricordo personale un articolo che il Cardinal Bertone che l'allora Professor Bertone mi diede e riguardava gli ordinamenti giuridici extraeuropei chiedendomi di leggere ricordo che ne parlai con colui che è stato poi il mio maestro il signor Ferrari Toniolo il professore lì a Laterano e mi disse sì qui c'è un aspetto fondamentale su cui vale la pena puntare lo sguardo perché c'è il futuro della Chiesa e di là iniziò anche un interesse specifico per questi per questi argomenti e per queste argomentazioni quindi eminenza grazie per queste possibilità che mi ha dato in questo periodo grazie a tutti grazie professore si vede proprio che questo volume l'ha curato lei e lo conosce in tutti gli angoli perché è riuscito a tirarne fuori ancora una miriade di spunti e di considerazioni che ci hanno molto interessato e che comunque ci fanno capire come questo volume è ricco è un repertorio di riferimento per approfondire tantissimi argomenti sia sulla dottrina sociale della chiesa sia sulla diplomazia che cerca di tradurla in pratica poi nella vita dei nostri popoli grazie quindi di cuore ancora complimenti per il suo lavoro e adesso però come momento conclusivo vorrei quasi dire culminante di questa serata noi invitiamo come si fa per la presentazione dei libri l'autore a dire anche la sua parola e il protagonista di questa serata è il suo eminenza il cardinale tercisio bertone ora gli chiediamo di rivolgerci alcune parole di dirci non solo quello che riguarda questo libro ma quello che ha nel cuore perché noi questa sera siamo tutti estremamente contenti e attenti intorno a lui in una serata di particolare significato eminenza la ascolteremo con attenzione con amicizia con effetto e forse anche con un po' di commozione eminentissimo il signor cardinale decano del collegio cardinalizio segretario di stato e merito e quindi modello vivente di ciò che abbiamo ascoltato sulla diplomazia vaticana io ricordo anche l'accento degli interventi umanitari anche i suoi interventi dopo l'intervento di Giovanni Paolo II sulla protezione la legittimità degli interventi umanitari e in tanti momenti significativi del suo servizio alla Chiesa evidentissimi signori cardinali eccellenze signore ambasciatori non posso non ricordare in questo momento anche il decano del corpo diplomatico da poco defunto gli rivolgiamo un pensiero di ricordo illustri ospiti e cari amici dopo aver ascoltato le dotte relazioni offerte per illustrare i contenuti del ponderoso volume che raccoglie i principali interventi pronunciati in questi sette anni di servizio alla Santa Sede è giunto il momento del ringraziamento agli organizzatori dell'evento in particolare ai collaboratori della segreteria di Stato e della mia segreteria particolare al moderatore padre Federico Lombardi agli illustri relatori sua eccellenza Monsignor Dominic Manberti intelligente dinamico segretario per i rapporti con gli stati al dottor Hans Geert Pettering già presidente del Parlamento europeo che ha fatto un lungo viaggio e ha subito detto con gioia il suo sì a questo evento tuttora presidente della fondazione Conrad Adenauer a cui anch'io ho partecipato prima di essere segretario della congregazione della fede al professor Vincenzo Buonomo docente di diritto internazionale dirigente curatore del volume e collaboratore per tanti anni all'Aterano modello di studente e di docente vada la mia riconoscenza sincera e totale per aver voluto onorarmi con la loro partecipazione e il contributo della loro scienza che ci ha fatto penetrare con profondità nelle tematiche e nelle dinamiche dell'etica e del diritto internazionale ritornando alle sorgive che da sempre alimentano la dottrina e la prassi dei rapporti tra i popoli cioè il diritto naturale e perciò il progetto originale di Dio sull'umanità questo volume elegante nella fattura e nella composizione tipografica e di questo ringrazio l'editrice la tipografia vaticana è impreziosito da una prefazione meditata di Papa Francesco quando tempo fa gli ho presentato le bocce del libro e ho accennato anche alla prefazione egli mi ha detto se lei è contento la faccio io me lo lasci e così in una successiva udienza mi ha consegnato la prefazione suggellata da ispirati pensieri che non cessano di stupirmi e credo stupiranno anche voi per quella visione ampia della diplomazia cito chiamata di fronte alla globalizzazione negativa e paralizzante a intraprendere un compito di ricostruzione riscoprendo la sua dimensione profetica determinando quella che potremmo chiamare già stato citato la utopia del bene fra l'altro alla fine della stessa prefazione il Papa scrive citando un suo concittadino il metro della vita dei servitori della Chiesa non è dettato da quel stampare una notizia a grandi lettere perché la gente pensi che sia indiscutibilmente vera anzi è intessuto pur nei limiti inerenti alla condizione e possibilità di ciascuno dalla silenziosa e generosa dedizione al bene autentico del corpo di Cristo e al servizio duraturo per la causa dell'uomo perciò la storia la cui misura è la verità della croce renderà evidente osa dire il Papa l'intensa azione del cardinale Bertone Papa Francesco quindi sta in cima alla lista dei miei ringraziamenti per l'apprezzamento che mi ha dimostrato con le sue toccanti parole resta sempre punto fisso della mia convinzione che l'etica della solidarietà altra espressione chiave di Papa Francesco si esprime nella comunità degli stati sulla base cito dell'amore e della solidarietà operante questa però non è qualcosa che cresce spontaneamente ma implica la necessità di investire lavoro pazienza impegno quotidiano sincerità umiltà professionalità non è questa la via maestra che la diplomazia è chiamata a percorrere in questo ventunesimo secolo l'azione diplomatica esercitata da un segretario di Stato che è anche vescovo della Chiesa Cattolica pur attraverso le regole e i metodi propri non può che coniugarsi dunque con la pastoralità permettetemi ora di soffermarmi qualche minuto per una testimonianza personale che riguarda alcuni aspetti di questo ricco e travagliato settennato che mi ha visto esercitare la missione di segretario di Stato con l'intima convinzione della necessità di infondere in essa il senso concreto della pastoralità e della missionarietà d'altronde questo è il cammino indicato dai supremi pastori per l'intera Chiesa in questo tempo tra le molteplici incombenze udienze riunioni studio delle pratiche fita corrispondenza eccetera condesse al compito di coadiuvare il successore di Pietro si sono incastonati i viaggi cito il Papa per portare il magistero pontificio e la benedizione apostolica in ogni dove paesi diocesi parrocchia università istituzioni associazioni il Papa lo dice nella sua lettera di congedo che ha voluto inviarmi e quindi nonostante qualche critica all'inizio del mio servizio sui miei viaggi sono contento di questo riconoscimento del valore dei viaggi che d'altra parte un segretario di Stato deve compiere anche specificamente su mandato per incarico dei Papi di essi vorrei ricordarne alcuni di peculiare importanza la Polonia è la terra che mi ha accolto più frequentemente per le lauree onoris causa per congressi internazionali e per beatificazioni pronunciate come legato papale negli Stati Uniti d'America ho avuto l'onore di presiedere la 125 Assemblea dei Cavalieri di Colombo in Perù ho visitato le popolazioni colpite dal terribile terremoto del 2007 portando la carezza del Papa soprattutto alle folle di bambini provati ma sorridenti ricordo una marea di bambini che tendevano le mani al rappresentante del Papa a Cuba ho commemorato il decimo anniversario del viaggio apostolico di Giovanni Paolo II incontrando giovani studenti dell'università statale autorità l'episcopato l'episcopato naturalmente e il corpo diplomatico in Messico ho partecipato al sesto incontro mondiale delle famiglie come legato pontificio in Cile ho festeggiato i 200 anni dell'indipendenza nazionale ma ho anche visitato le città colpite dal terremoto del 2010 soprattutto Assunzio tralascio i numerosi viaggi in Europa Armenia Azerbaijan Bielorussia Cecchia Croazia Portogallo Spagna Slovenia Ucraina e l'asiatico Kazakhstan e vengo ad alcuni eventi di particolare rilievo in Italia sarebbero tantissimi tra i diversi interventi sia in ambito ecclesiale sia nei luoghi dell'impegno sociale e politico con lo scopo di illustrare il magistero sociale della Chiesa o di sottolineare ricorrenze di speciale significato per l'attualità mi piace citare il centoquarantesimo di Roma capitale con lo storico incontro a Porta Pia credo che lo ricordiamo e il centocinquantesimo dell'unità d'Italia con la consegna dell'elevato messaggio di Benedetto XVI al Presidente della Repubblica al Quirinale infine non cancellerò mai dai miei occhi e dalla mia memoria lo spazio sacro allestito alla caserma dell'Aquila con la lunga fila a cielo aperto delle vittime del terremoto composte nelle semplici bare per concludere direi che la funzione di segretario di Stato erede di un'antica e peculiare tradizione diventata dopo il Concilio Vaticano II tanto diversa e lontana dalla cosiddetta monarchia papale come ha scritto qualcuno nei giorni scorsi è quella di essere collaboratore consigliere strumento fedele di una missione che viene dall'alto e che si incarda nella variegata e originale personalità dei distinti successori di Pietro per me che sono fin dalla gioinezza segnato dal carisma vocazionale del sistema preventivo di Don Bosco il dialogo e l'incontro sono stati l'esperienza vitale e di Oturda del servizio di questo settennato e sono grato che le innumerevoli lettere ricevute di saluto di riconoscimento e di congedo di cardinali vescovi anche a nome di intere conferenze episcopali di capi di Stato e di governo di varie nazioni abbiano focalizzato questo stile di incontro del guardarsi in faccia del dialogare schietto e fiducioso termino citando ancora una volta la prefazione di Papa Francesco e sottolineando l'auspicio che la diplomazia pontificia contribuisca a far rinascere quella dimensione morale nei rapporti internazionali che permetta alla famiglia umana di vivere e di svilupparsi insieme continua il Papa se l'uomo manifesta la sua umanità nella comunicazione nella relazione nell'amore verso i propri simili le diverse nazioni possono legarsi intorno a obiettivi e pratiche condivise e generare così un sentire comune ben radicato fine della citazione vi ringrazio per l'ascolto per la vostra presenza e approfitto di questa occasione per rivolgere un sincero augurio al mio successore Sua Eccellenza Monsignor Pietro Parolin che proprio oggi mi ha telefonato e mi ha incaricato di portarvi il suo saluto e che arriverà a Roma sabato prossimo che quindi presto prenderà possesso del suo incarico di primo collaboratore di Sua Santità Papa Francesco nel guidare la Santa Sede e nel promuovere le relazioni con gli stati grazie Grazie Applausi Grazie 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 a lei di cuore eminenza per questo rapido ritorno su questi sette anni di servizio così intenso che lei ha vissuto e noi abbiamo seguito e grazie anche per il senso come lei ha detto così bene di pastoralità e di missionarietà con cui lei lo ha vissuto ne siamo molto grati e lo portiamo nel cuore e non lo dimentichiamo certamente grazie a tutti coloro che hanno partecipato in particolare naturalmente ai nostri oratori al dottor Pettering al consiglio Manberti al professor Buonomo e alle eminenze eccellenze al corpo diplomatico a tutti coloro che hanno partecipato in particolare anche all'unità dell'Accademia Ecclesiastica che sono venuti a imparare cose così importanti in questo giorno allora grazie a tutti di cuore e buona continuazione e a sua eminenza per il suo servizio della Chiesa grazie 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 Grazie.